e l'onora Lorenza e poi continuiamo con i collegamenti da fuori con Natale Cucurese Franco Russo dopo noi abbiamo altri 20 minuti di traduzione dopodiché al mezzogiorno e mezza interrompiamo il nostro collegamento ci salutiamo con Cornelia che finora sta seguendo diligentemente tutti gli interventi e la ringrazio ancora e magari due minuti per salutarti ti volevo dare la parola prima di mezzogiorno e mezza in modo che ci salutiamo ok allora buongiorno a tutti e a tutti grazie a Transform per questa possibilità di confronto in un momento così drammatico e grazie a due Roberto per lo sforzo di organizzazione non è mai semplice mettere tante persone insieme a discutere io procedo per titoli per stare nei tempi perché insomma l'analisi della fase che stiamo vivendo è già stata ampiamente sviscerata mi sembra che si possa dire senza timore di essere troppo in fatica che diciamo siamo un punto nella storia di snodo un punto periodizzante in cui il genocidio in corso a Gaza le decisioni del Consiglio sull'Ucraina quanto sta avvenendo nel Mar Rosso e diciamo da ultimo solo in ordine temporale l'attentato di ieri a Mosca con diciamo tutte le ipotesi di ricostruzione ma soprattutto con sulle cause diciamo e sugli attori dell'attentato ma soprattutto su quali potranno essere le possibili conseguenze su uno scenario di guerra già fosco incombono diciamo su questo tempo e in questo tempo e in un anno non dimentichiamolo mai in cui vanno al voto due miliardi di persone e quindi diciamo quali saranno le redini dei governi che gestiranno questo snodo periodizzante si va riscrivendo quello che si sta materialmente e concretamente riscrivendo è la rifondazione dell'Europa cioè la cesura con la storia di un'Europa che è nata dopo la seconda guerra mondiale che è nata dopo la sconfitta del nazifascismo che cancella ogni tipo di legame storico, politico ed etico con quella storia che invece si rifonda sulla logica della guerra della guerra contro l'est della guerra in Medio Oriente della solidarietà diciamo senza riserve con quanto sta facendo il governo israeliano e con la missione militare nel Mar Rosso anche qui io vado per titoli l'Europa che si rifonda sulla guerra le decisioni del Consiglio l'altro giorno la missione nel Mar Rosso i due ultimi macro accordi che hanno segnato la presidenza von der Leyen l'accordo sull'asilo ai migranti e il nuovo patto di stabilità accordi su cui il governo italiano sta giocando un ruolo predominante quello con la Tunisia e quello con l'Egitto anche qui la riscrittura della logica delle frontiere e appunto infine diciamo le dichiarazioni del presidente francese sulla possibilità concreta che vengano inviati anche soldati in Ucraina allora di fronte a tutto questo e ripeto non voglio entrare diciamo nella descrizione analitica perché già è stato fatto e non ce ne sarebbe il tempo io credo che diciamo per stare ai nostri compiti che è poi sempre quello che che dobbiamo chiederci io credo che il tema sia se abbiamo una sinistra diciamo sia nei pensieri lunghi sia nei rapporti di forza nel presente che sia capace di mostrare un'alternativa mostrare concretamente un'alternativa al baratro dentro cui non si può più dire stiamo precipitando ma siamo precipitati e nel quattordici non ne avemmo la forza ecco i nostri diciamo per andare alle nostre genealogie nel quattordici non ci riuscimmo oggi sì sì parlo più vicino al microfono forse ora si sente diciamo che i pacifisti diciamo quel che restava della sinistra e del movimento operaio la vigilia della prima guerra mondiale non ebbe la forza materiale per per fermare la tragedia anzi diciamo riuscì soltanto a dividersi io oggi credo che noi dobbiamo chiederci questo se abbiamo la forza in termini di elaborazione e di capacità di costruire consenso su una prospettiva di pace per superare diciamo una condizione di marginalità e frammentazione dentro cui siamo lo dico sempre per parlare molto schiettamente molto concretamente a me preoccupano molto le divisioni nella sinistra europea larga e non nel partito o non solo nel partito nella sinistra europea larga dentro una scena di guerra mi hanno preoccupato moltissimo le differenziazioni sul voto in Parlamento europeo sulla questione della guerra mi preoccupano moltissimo diciamo mi preoccupa moltissimo l'idea che diciamo due piattaforme politiche quella del partito della sinistra europea e quella di now the people possano ragionare in questa fase in una logica di competizione fra i progetti politici e non di convergenza sulla necessità di fermare questa rifondazione dell'Europa sulla guerra e mi preoccupa moltissimo anche come dire il deficit di luoghi in questo transform può svolgere una funzione fondamentale in cui appunto rielaborare l'alternativa perché sembriamo un po' essere condannati a una divisione fra una sinistra che ha introiettato la logica dell'atlantismo e dell'occidentalismo e diciamo dei residui campisti che esistono e che non ci dobbiamo nascondere e appunto in questo mancano diciamo manca una infrastruttura di pensiero meglio c'è c'è l'infrastruttura di pensiero ma io credo che davvero ci dobbiamo lavorare tanto sia per ragionare appunto sull'idea dell'Europa come spazio diciamo di neutralità mi preoccupa molto ad esempio che una parte della sinistra europea e anche della sinistra in Italia abbia diciamo ceduto all'idea di un esercito europeo come prospettiva diciamo propedeutica alla pace e credo che sia il contrario esattamente il contrario di quello che serve penso che tutto quello che accennava Fausto Bertinotti ma immagino che Nicoletta e altre che interverranno dopo di me diciamo è la necessità di costruire un pensiero forte intersezionale sia esattamente quello che noi dobbiamo fare e se pensate diciamo alla capacità di alla capacità di mobilitare o meglio di raccogliere un'esigenza di partecipazione e di ribellione e di rivolta che ha avuto il movimento femminista nei due appuntamenti del 25 novembre e dell'8 marzo io credo che lì beh ci sia da prendere appunti ci sia da mettersi in ascolto ci sia da studiare perché lì e chiudo davvero su questo lì è in solidarietà con il popolo palestinese secondo me c'è la partecipazione politica di nuove generazioni e lì dobbiamo metterci in ascolto e prendere appunti chiudo e chiudo su questo perché così come ho detto che mi abbia colpito negativamente il cedimento l'idea che l'esercito europeo possa oggi essere una soluzione all'Europa che scivola sempre più nella terza guerra mondiale si fa parte attiva quantomeno di una nuova guerra fredda e non tanto fredda se stiamo allo scenario ucraino e palestinese e del Mar Rosso io credo anche che noi abbiamo un grandissimo bisogno di tradurci e per tradurci dobbiamo metterci a studiare perché lo dico io credo che qualsiasi uomo donna che abbia un progetto di trasformazione radicale della società come siamo noi non possa non interrogarsi sulle forme di traduzione di questo pensiero in modalità che possano realmente essere efficaci sul tema della formazione del senso comune credo che noi su questo abbiamo un deficit cioè la rivoluzione nell'età del digitale e della intelligenza artificiale dobbiamo elaborare su questo perché altrimenti noi ci poniamo come obiettivo costante quello di parlare a chi si astiene ma noi non parliamo a chi si astiene se continuiamo ad usare sempre le stesse forme della politica e diciamo le stesse modalità di comunicazione che rendono insufficiente oggi anche persino la comunicazione televisiva faccio un esempio e chiudo davvero io come sapete faccio l'insegnante sono abituata a frequentare tutte le mattine persone che hanno mediamente 30 anni meno di me in questa sala sono la più giovane ed è la cosa che mi preoccupa di più della nostra discussione l'anno scorso dei miei alunni e delle mie alunne con una collega erano impegnati a costruire un lavoro sull'articolotto della Costituzione e la libertà religiosa dovevano raccogliere immagini dei diversi luoghi di culto io insegno tra Torbella Monaca e Ponte di Nona perché è di Roma quindi periferia est estrema periferia della città luoghi di culto della città quindi fotografia del Tempio Buddista fotografia della Chiesa Evangelica a un certo punto vedo al centro di questo puzzle di fotografie un banchetto con le bandiere di sinistra italiana del Partito Democratico io ho detto vabbè o saranno di centro-sinistra chiedo alle mie alunni che cosa fosse quella fotografia perché fosse lì sono i testimoni di De Geova io a questa risposta diciamo che mi ha rassicurato sul fatto che non ci sono diciamo inclinazioni diciamo verso il Partito Democratico sulle mie nei miei studenti e le mie studentesse ma ovviamente diciamo mi ha poteva essere un banchetto di rifondazione va bene così vabbè una volta tanto non ce la non ce la accogliamo noi però diciamo su come noi abbiamo forme della politica che non arrivano a determinate fasce sociali e fasce generazionali allora un luogo di elaborazione di ricerca di sperimentazione come Transform da questo punto di vista può essere utilissimo e personalmente sono a disposizione se Roberto non mi ammazza do tre date tre date eh il 19-20 aprile ci sarà la conferenza No Pasaran a Lisbona eh a cui Transform partecipa eh sulla questione dell'avanzata delle destre eh in Europa eh il diciamo il prossimo ottobre siamo tutti e tutti impegnati nel ventennale del fondazione del partito della sinistra europea e credo che questo sia diciamo un altro elemento importante e eh lo dico diciamo soprattutto alle compagnie vorremmo organizzare qui a Roma nei prossimi mesi eh una diciamo iniziativa femminista eh insieme al forum progressista della sinistra europea proprio per ragionare diciamo su come ripensare lo spazio europeo e fermare l'avanzata delle destre a partire dal femminismo e dall'intersozialità grazie a tutti grazie a tutti